ben tornati in diretta con buongiorno weekend siamo pronti per il momento preferito del sabato quello in cui ci prendiamo giusto un caffè con vediamo insieme con chi un po' di benvenuto buongiorno weekend luigi pisani buongiorno 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 a voi ciao allora luigi ti vediamo in macchina e le vacanze di pasqua ti impongono di andare raggiungere fortunatamente la famiglia quindi sei in viaggio tra un lavoro e l'altro il weekend di pari due giorni di pasqua devo raggiungere la famiglia di origine quindi sto in cilento e mi sono preso però un attimo per me ho detto vado in riva al mare tranquillo faccio una bella inquadratura anche se in macchina però almeno sto un attimo tranquillo per il nostro caffè ti ringrazio a proposito di caffè luigi devi sapere che in questa parte di buongiorno weekend faccio sempre la stessa domanda agli ospiti che intervengono in questa rubrica buongiorno luigi pisani benvenuto a buongiorno weekend e lei che caffè si sente io mi sento un caffè lungo e macchiato lungo e macchiato allora adesso però ce la devi spiegare perché molti dicono amaro ristretto invece no lungo e macchiato non mi era mai capitato perché lungo nel senso ti senti morbido con la vita non lo so perché lungo perché diciamo preferisco la lunga distanza alla allo sprint e quindi diciamo i risultati migliori li ho ottenuti quando mi sono appunto lasciato andare alla lunga distanza ho atteso e il caffè si allungasse che quindi la tazzina si riempisse quasi fino all'orlo e macchiato perché non mancano gli ostacoli però con gli stessi ostacoli quindi la macchia di latte mi piace averceli tra le scatole per diciamo assaporare meglio la tazzina di caffè ecco wow quanta profondità in una semplice domanda che sembra banale ma non lo è non lo è e non era preparata no no assolutamente perché mi piace sorprendere l'ospite in questo modo e invece banalizzando se fosse un cornetto ma è cornetto semplice guarda cornetto semplice al massimo una punta di marmellata ma non amo le grandi sofisticherie diciamo creme diciamo queste cose qui no cornetto semplice un cornetto semplice da questi piccoli grandi indizi che ci hai dato si fa capire che ipotizzano lo so nella carriera di un autore è importante capire la lunga distanza alcune volte ci imponiamo di raggiungere degli obiettivi a brevissimo termine e quindi andiamo anche in frustrazione alcune volte se questo non avviene quindi forse bisogna avere uno sguardo un po più profondo un po più lontano e soprattutto con l'esperienza ho acquisito questa questa diciamo questa visione delle cose ma questo mi sembra anche abbastanza normale e all'inizio prendevo tutto veramente con grande grande fretta quindi facevo tutto con fretta e cercavo l'obiettivo di raggiungerlo immediatamente ma questo mi ha portato anche a degli infortuni veri e propri perché poi io nella la mia carriera parallelamente alla mia carriera d'attore sono un grande sportivo mi piace molto lo sport l'ho sempre praticato anche a livello agonistico facevo tennis quindi e voler tenere tutto insieme per forza sempre con fretta e frettolosità mi ha portato spesso anche a farmi male fisica fisicamente e oltre che a livello emotivo e quindi pian piano ho capito che oggi sono sono una persona come ti ripeto che si prende i suoi tempi sui spazi e da anche spazio al riposo quindi insomma non non sono lì perché poi le cose arrivano se lavori bene in tutti i campi in cui ti trovi a lavorare pian piano poi i risultati e la vita ti risponde più che se forzi le cose ecco in tutti i campi in cui lavori perché è vero e vorrei dirlo a magari i giovani no talenti che iniziano questo percorso quello di un attore voglio fare l'attore voglio fare l'attrice in realtà forse non è soltanto l'unico mestiere per arrivare a fare quello anche bene bisogna imparare tutta una marea di robe impreviste è una palestra continua a parte che puoi trovarti un giorno nel cosiddetto olimpo quindi a un certo punto io avete fatto vedere delle immagini quando vedo un po di immagini anche lontane dico ma donna quanta roba che comunque ho fatto e c'è per esempio noi credevamo che è stato il mio primo film mario marrone un filmone sul risorgimento facevo uno dei tre protagonisti giovani e mi ritrovo improvvisamente a venezia i nastri d'argento c'è un nastro d'argento a casa col mio nome perché premiarono il cast principale c'è tutta una serie di cose poi finì tutto e dall'oggi al domani mi ritrovai e adesso quindi c'è ma avete promesso questo e adesso e ho imparato pian piano e questo mestiere come in generale anche spesso la vita tipo ti può portare molto su ma poi ci sono attimi di stacco forti e quegli quei momenti li devi in qualche modo affrontare non tanto con la frustrazione ma con sapendo che se tu lavori semini e continui a seminare poi a un certo punto qualcosa raccoglierai senza neanche chiederti troppo cosa e quindi sì tutti i campi per esempio il periodo della pandemia è lì che ci siamo stretti con l'amicizia l'amicizia lì si è formata molto con pietro de silva che è il regista poi dello spettacolo che sto preparando adesso e abbiamo cominciato delle dirette con lui a Enzo Casertano una facebook night live l'abbiamo chiamata era un appuntamento fisso lì è diventata una vera e propria trasmissioncina diciamo della domenica sera e io mi sono trovato a fare la regia di questa cosa web che mi ha insegnato tantissimo a montare i video gli audio tante cose mi ha insegnato in questo senso che mi ritrovo adesso quindi ogni cosa imparata poi in altri ambiti io la riporto all'ambito attoriale interpretativo soprattutto in teatro spesso sei chiamato a fare mille ruoli non solo quello dell'attore e quindi è importante conoscere tante tante più cose conosce ovviamente più sei preparato poi agli imprevisti bisognerebbe dirlo appunto alle giovani leve che invece spesso lo dico spesso insomma aspirano alla notorietà più che al lavoro effettivo e tu sei anche insegnante no assolutamente cioè io lo dico sempre il lavoro è molto in faccia la fatica serve senza fatica non si arriva da nessuna parte ma questo sembra un concetto scontato ma sembra molto dimenticato soprattutto nelle nuove generazioni probabilmente anche un po' responsabilità nostra e della generazione precedente perché comunque si è trovata a fare i conti con una società che magari dava di più quando ero piccolo io magari era più facile anche diciamo muoversi in un in un ambito anche nel mio ambito nel mio ambito era era un po più facile forse muoversi quando io avevo vent'anni però adesso è proprio difficile adesso il lavoro la cultura del lavoro va proprio instillata in questi ragazzi perché c'è tanto potenziale non è vero che io vedo tanti ragazzi potenzialmente molto bravi molto talentuosi però con questa fretta e voglia di voler arrivare subito poi non si sa bene dove dove vuoi arrivare in prima serata sulla rai su media una piattaforma ok una volta che ci arrivi e parlo per esperienza personale non è che ti cambiamo sì ti può cambiare un po qualcosa economicamente qualcosa a livello di notorietà perché ti riconoscono ti fanno la battuta ma poi tu come stai chiedo sempre ragazzi ma tu come ti senti come stai ma ci stai bene questa cosa mai sentito che hai lavorato per questa cosa ma stai continuando a lavorare su te stesso perché quella poi è quello che ti resta e io cerco di trasmettere questo quando faccio anche l'altro ruolo che mi piace moltissimo che è questo questo ruolo di insegnante di recitazione che da un po di anni insomma mi trovo la fortuna di fare è vero perché è una fortuna poter trasmettere qualcosa ai giovani di che appunto approcciano all'inizio di questo grande lungo infinito percorso tra le coperture varie delle immagini che abbiamo visto giustamente citato il film di mario martone ma anche incredibile il lavoro che hai fatto con massimo ragnieri con maria angela melato con filo meno nelle immagini che vediamo di filo meno marturano ecco che emozione è stata aver potuto lavorare con una grande donna attrice come maria angela ma tieni conto che questo mestiere poi riporta io da ragazzino vedevo ranieri mia madre sarremo a certo punto mi trovo a fare quattro provini con lui di fronte lui mi prende comincia un'avventura molto lunga perché sono lavorato per cinque anni perché abbiamo fatto tre commedie di eduardo in televisione poi ci ho fatto anche una tournée molto lunga la prima come dicevi è stata filomena marturano con maria angela melato ed è stato anche l'ultimo suo lavoro però è stata un'esperienza meravigliosa avevo ranieri avevo l'amelato era l'amelato poi era di un veramente molto 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 umana con noi ci aiutava tanto noi eravamo molto emozionati era una nuovissima avventura lui è stato il pioniere ha riportato le commedie di eduardo televisione adesso oggi abbiamo visto con castelletto con massimiliano gallo la scalera sono tornate in televisione e commedia però raniere ha proprio sfidato la rai e il pubblico e devo dire che l'ha fatto alzando molto la sticella e con per noi è stata un'esperienza meravigliosa l'amelato è stata stata stupenda ogni volta che vedo le immagini vedo me molto tenero che sta lì a diciamo veramente con gli occhi di un bambino davanti al una parte e quindi mi fa molta diciamo tenerezza quel periodo della mia vita e sono molto contento molto molto contento di averlo di aver avuto la fortuna di poterlo vivere e poi ripeto c'è stata è stata ci sono state altre commedie si sono alternati quindi è stato veramente un bel viaggio con massimo ranieri col quale ancora ci ci sentiamo ed è rimasto un bellissimo rapporto che che bello perché poi ovviamente la tua carriera continuato però immagino che i primi lavori quelli che si fanno quando si è ancora un po più giovani con delle grandi personalità del mondo dello spettacolo rimangono impressi nella memoria in maniera diversa penso invece adesso anche c'è ovviamente la tua carriera continua e ha continuato su vari fronti quindi televisione cinema e di recente anche con eri marcore quindi però quelle piccole cose iniziali sono hanno un sapore diverso e forse la tenerezza di cui parlavi prima è qualcosa di è come quando a un bambino fai provare il gelato per la prima volta quel viso quel quella quella cosa che vedi quegli occhi è difficile poi ritrovarli io tento sempre di fare questo di mantenere quella peschezza e quella purezza nell'approcciarmi alle cose perché quello è fondamentale se perdi quella diventa un lavoro in qualche modo di routine soltanto di routine e allora tanto vale fare altro perché questo è un lavoro che deve essere mosso da una passione da una creatività costante se no la se perdi quello veramente molto difficile è meglio non farlo è meglio fermarsi un attimo e riflettere e quindi cerco sempre nei lavori però quelle prime esperienze come dici tu sono sono state veramente un imprinting che porto nel cuore è vero e posso posso soltanto immaginare luigi adesso chiederai alla regia di mandare un piccolissimo video che ha a che fare con invece il nuovo che ti aspetta da pochissimo proprio cioè a brevissimo dopo le vacanze finisci il casatiello e vai in a teatro quindi vediamo insieme questo piccolissimo video perché è soltanto per capire di che cosa si tratta buonasera va in onda tra qualche istante partitissima torneo musicale a squadre abbinato alla lotteria di capodanno buonasera a inizio questa sera un ciclo di trasmissioni di musica leggera dal titolo quanto mai significativo senza rite seguirà la comica gli evasi con staglio e olio l'edizione della notte del telegiornale trasmettiamo tg2 ring incontro in diretta con un personaggio dell'attualità intervistato dai giornalisti delle tg2 va ora in onda fuori programma con molte attenuanti della serie i casi archiviati ecco ecco sono soltanto alcune delle signorine buonasera hanno fatto la storia della televisione italiana avevano un preciso compito quello di umanizzare e rendere più armoniosa questa televisione che sembrava qualcosa di di tecnologico e di freddo signorine nel tempo che cosa ci dobbiamo aspettare da questo spettacolo scritto da veronica liberale che salutiamo e interpretato da veronica te e altri grandi colleghi diretti ovviamente tutti da pietro de silva esatto con me veronica in scena già da frateani e camilla bianchini cosa aspettarsi secondo me intanto riflettere sul fatto che questo è un omaggio un omaggio che veronica ha voluto fare a un'epoca che si è aperta nel 1954 quando c'è stato il primo annuncio e poi si è chiusa nel nei primi anni 2000 era il 2003 con la fine diciamo di questa di questa lunga epopea delle signorine buonasera che all'inizio erano erano state inserite per in qualche modo come prova ma non erano state non si era dato tanto peso al loro inserimento anzi si pensava di toglierle dopo poco tempo alla fine invece sono rimaste 50 anni e ci hanno accompagnato per per tutta la nostra diciamo storia chi c'ha chi c'ha genitori settantenni ottantenni lo sa insomma le signorine buonasera se le ricordano e e quindi fino ad arrivare a noi quarantenni è un modo anche per far conoscere ai giovani questa realtà e la cosa diciamo più che aspettarsi il pubblico entrerà in un mondo fatto di un'epoca un po' lontana fatta di anni 50 anni 60 ci sono delle storie che si intrecciano tutte queste storie hanno un filo un unico filo questo ragazzo che diciamo ha in qualche modo vissuto da quando era bambino fino all'età adulta queste signorine buonasera in maniera trasversale la madre voleva diventare una signorina buonasera ha visto tanto delle signorine buonasera neanche incontrata una e e e forse dico forse ha anche diciamo in qualche modo intrecciato la sua storia sentimentale ma questo non non è tanto importante l'importante è che lui sente che la sua vita è stata segnata da queste signorine buonasera e ci porta nel suo mondo quindi questo mondo fatto di bianco e neri fatto di trasmissioni d'epoca veramente si respirerà un'aria un po a c vintage mamma di quel vintage bello di quel film in bianco e nero che ogni tanto ripropone la rai e che la domenica ci possono accompagnare nella nella nostra nel nostro post pranzo diciamo è questo di eleganza anche perché non è scontato perché spesso e volentieri me lo dicono commentando le trasmissioni varie effettivamente manca un po quel pizzico di eleganza abbiamo normalizzato forse troppo gli usi costumi della televisione e quindi pensare alle signorine buonasera mi fa pensare anche a una compostezza a un'educazione e ad un'edizione particolare quindi l'eleganza forse è il termine che racchiude un po tutto questo ma infatti quale trasmissione migliore per venire a parlare dei signorini buonasera che questa cioè certo buongiorno weekend voglio dire voglio dire martina questa eleganza di cui tu parli e anche questo saper in qualche modo prendersi un caffè come stavolta direttamente senza dover fare chissà cosa senza dover urlare senza semplicemente facendo passare al pubblico minuti una mezz'ora di conversazione sia adesso si è persa questa cosa c'è questa voglia di voler sempre sorprendere di voler riempire è come se i vuoti avessero perso importanza il vuoto è fondamentale ecco è uno spettacolo anche di alcuni vuoti che sono sì assimilabili a quei vuoti che loro vivevano quando dicevano buona visione e rimaneva lo schermo fermo perché qualcuno magari non staccava e loro avevano quei cinque sei secondi in cui rimanevano col sorriso ma si sentivano il loro però stavano lì e c'era un attimo di sospensione ecco queste pause queste sospensioni si è persa la è come se sempre si volesse riempire questo 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 nostro mondo anche virtuale social di cose cose invece loro in qualche modo entravano nelle nostre case con grande signorilità e poi ci ci raccontavano che cosa avremmo visto e poi ci lasciavano per poi riprenderci o il pomeriggio o la sera o il giorno dopo ecco è uno spettacolo è un po' una coccola questo spettacolo per chi verrà a vederlo e io sono fortunato perché interpreterò vari personaggi maschili che affiancheranno queste tre protagoniste femminili è bello perché intanto grazie anche per quello che hai detto su buongiorno weekend ed è effettivamente quello che vorrei fare poter conversare in un modo in cui veramente è raro alcune volte nel mondo televisivo mi fa piacere parlare anche del ruolo maschile di questo spettacolo che potrebbe far pensare ad un mondo completamente il femminile in realtà questo uomo che è un forse un filo rosso tra tutte e poi siete diretti da un grande attore un grande regista che è pietro de silva come sta approcciando a livello registico al a questo spettacolo che allora pietro è un vulcano io ripeto l'ho conosciuto prima della poco prima della pandemia ma poi durante la pandemia ci siamo proprio siamo diventati molto amici è un vulcano di idee ma anche proprio di energia è un bravissimo attore non lo devo dire io lo dice il pubblico ma è anche un regista che sa in qualche modo creare creare sempre una ecco quello che dicevo prima sa mettere la macchia di latte nel caffè quindi mentre tutto viaggia in maniera diciamo lineare lui sa trovare quella ti mette quell'ostacolo ti mette in crisi come attore ed è giusto che sia così io sono molto contento di questo perché è un continuo confronto con lui su come in qualche modo entrare nei meandri del testo e quindi trovare sempre cose nuove in questo caso sta approcciando in una maniera che a me piace molto che è una sorta di c'è c'è il realismo nelle scene ovviamente perché ogni scena parla di cose molto concrete molto reali ma tutto è ammantato di oniricità quindi in qualche modo c'è un'atmosfera anche molto rarefatta quello che dicevo prima queste pause questi silenzi creano un'atmosfera rarefatta per cui lo spettatore solo alla fine capirà veramente se lo capirà perché non è neanche detto questo ma solo alla fine troverà diciamo in qualche modo il filo rosso di cui parlavo perché lo ritroverà quanto meno perché certe volte lo perderà per poi ritrovarlo più avanti lui lavora per spiazzamento diciamo e il lavoro è molto stimolante ripeto per me ancor di più perché cambio personaggio di volta in volta faccio tutti i personaggi maschili e quindi c'è anche un lavoro tecnico da fare molto diciamo di ricerca tecnica un po abbastanza importante perché non solo mi devo cambiare ma devo anche cambiare come diciamo attitudine e quindi è molto stimolante questo bello lasciamoci sorprendere da le signorine nel tempo in scena al teatro come ta off di roma e poi spero in altri luoghi in altri meravigliosi teatri d'italia a roma dal 2 al 7 aprile un testo di veronica liberale con Veronica Liberale, Camilla Bianchini già da Fred e Ani e Luigi Pisani grazie, diretti magistralmente da Pietro De Silva grazie Luigi, grazie per questo caffè lungo e macchiato e buona Pasqua soprattutto grazie a te, grazie a tutti voi e buona Pasqua anche a voi grazie ancora, grazie anche a voi tutti ci state augurando buona Pasqua e quindi vi ringrazio per i messaggi Gigi, Pier, Andy, Marisa, Francesco e Concetta grazie a tutti voi, grazie a Daniele Petrosemolo in regia da solo, solo soletto ma bravissimo grazie a Natalone in assistenza e anche ai ragazzi che sono venuti adesso Lorenzo, intravedo qualcun altro però le luci non mi permettono di vedere chi e insomma io vi ringrazio comunque vi auguro buona Pasqua domani ovviamente non ci vediamo ma ovviamente buongiorno weekend ritorna sabato prossimo pronti e svegli dalle 9 alle 11 perché ritorna buongiorno weekend ciao, buona Pasqua ciao, ciao, ciao 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 ciao